Angelica, hai già sfasciato il van, lei continua a dare ordini nella sua villa divina Ma non dire parolacce, questo è un video, dille un altro cosmo che confusione sarà perché ti ha Entra, dobbiamo partire, abbiamo altri 400 km on the road E dopo 5 ore di viaggio Siamo arrivate Dove siamo? Dove siamo? A casa della mia amica socia del pilota Così 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 E dopo aver messo in riga l'amica perché bisogna avere sempre un certo bon ton Siamo arrivata a casa dell'amica socia Tanti auguri cara Barbara Così